Invio di fiori, di rose rosse che parlano d'amore, ci vediamo fra un istante, pochissimo, si è aperto tutto, andiamo. Cari amiche, buongiorno. Buongiorno e benvenuti alla televendita Oxy. Oh, allora, cara Giussi, che cosa devono fare le nostre amiche subito? Le nostre amiche devono chiamare subito il 039 23 51. Perfetto, perché chiamando questo numero magico potrete acquistare a sole 45 mila lire le soluzioni Oxy per essere lisce, decolorate, ben depilate per tutto l'anno. Oh, oggi la protagonista delle nostre vignette, Isabella, si è travestita da fantasma, sperando che la paura del soprannaturale convinca Castagna della vignetta a sposarla. Vediamo. Travestita da fantasma, Isabella sveglia Alberto. Che cos'è quel letto plasma? Fa lui in preda allo sconcerto. Col consenso del demonio sono qui per comandare, io ti impongo un matrimonio, Isabella hai da sposare. Il mio piano ha funzionato, fa Isabella gongolando, ma il lenzuolo si è strappato, i suoi peli rivelando. Del mio triste tribolare, chi mi spiega la ragione, non so più che cosa fare, urge una soluzione. Ma Isabella, che deve fare, Isabella, per provare una soluzione? Isabella deve acquistare subito Oxy. Oxy, Oxy subito, e avrebbe nel caso specifico utilizzare Oxy Rapid, la crema decolorante ad azione rapida che rende invisibile la peluria del viso e delle braccia. È composta da due creme, una decolorante e un attivante da miscelare nell'apposita vaschetta. Dentro ci trovate anche la spatola. Allora, cosa aspettate? Approfittate di questa possibilità che vi offre Oxy per essere sempre ben depilate e decolorate. Telefonate quindi subito al 039 2351, perché le prime 60 di voi che chiameranno entro un'ora potranno acquistare a sole 45 mila lire, adesso vi dico cosa, un Oxy Rapid da 75 ml per decolorare i peli superflui, un Oxy Dep da 150 ml e la crema depilatoria per il corpo a base di miele, un Oxy Del da 100 ml, la crema depilatoria per le parti delicate a base di camomilla, un Oxy Stop, cioè 6 bustine monodose che rallentano la ricrescita, un Oxy Cera Freddo da 100 ml, la cera depilatoria a temperatura corporea, un Oxy Strips corpo da 12 strisce per eliminare gli antestetici pelacci delle gambe. Ed in più la borsa Anna Viva. La borsa Anna Viva vi sarà utilissima perché è una borsa leggerissima, molto carina a portare, e poi veramente capiente. Allora, cari amiche, Giusy, tu puoi dare un consiglio perché noi non ci depiliamo, ma voi sì, tu hai usato Oxy. Sì, ho usato Oxy, devo dire che ci sono delle bellissime strisce.